La grande atletica fa tappa ad Arezzo in questo weekend, in 1500 al nuovo campo scuola per i campionati assoluti di società. Questa è una manifestazione veramente meravigliosa e la dimostrazione che la nostra città è sempre più pronta ad accogliere manifestazioni di questo livello, lo dicevo prima, dettata anche dal fatto che nei momenti in cui abbiamo visto la partenza e la gara dei 100 metri femminili c'era un silenzio incredibile, non volava una mosca, quindi evidentemente piano piano la cultura sta crescendo anche in questo ambito. La volontà ovviamente è quella di sostenere sempre di più manifestazioni di questo tipo, spero che ci siano sempre più giovani che si avvicinano a questo sport e allo sport in generale. Quindi è un aspicio insensolato e per quello che ci riguarda ovviamente daremo tutto il contributo possibile a sostenere manifestazioni di questo livello, di questo tipo. L'organizzazione è dell'Unione Polisportiva Policiano, Alga Etrusca Atletica, Free Runners, la FIDAL e il CONI di Arezzo con il patrocinio del Comune. Ma io penso che per chi apprezza l'atletica leggera queste sono occasioni che devono essere sfruttate, quindi devono essere anche vissute e partecipate. Noi insieme alla Free Runners e all'Alga Etrusca Atletica abbiamo cercato di realizzare questo evento che dovrebbe essere un inizio di tanti altri eventi. A fine giugno ci saranno i campionati regionali assoluti di atletica leggera, individuali e poi per l'anno 2018 c'è in cantiere una richiesta importante, quindi vedremo un po' se ci saranno le condizioni per poterlo fare, ma sicuramente Arezzo è una sede appropriata, anche perché la struttura è adeguatamente funzionale, quindi c'è da fare qualche piccolo ritocco, ma questo strada facendo possiamo anche realizzare. A vedere lo stadio organizzato per le gare di un certo livello, di solito mi alleno a stadio vuoto, quindi è comunque una bella esperienza e spero che sia solo un punto di partenza per Arezzo e la sua atletica.